Era quello che volevamo, dare continuità ad un risultato positivo come quello di mercoledì. È avvenuto e abbiamo fatto tre gol e non succedeva da un po', quindi siamo contenti. Fare 50 gol in Serie A è sempre un bel traguardo, però non mi voglio fermare qua, voglio continuare. Sono ancora giovane e quindi c'è la possibilità di arrivare ancora più su. Per quanto riguarda le punizioni è una cosa che mi sento mia, quindi voglio continuare così. Le provo spesso in allenamento con gli altri compagni e so che posso fare anche di più, quindi devo solo continuare così, con la testa giusta e cercare di metterla dentro più volte possibile. Mancano ancora otto giornate e non bisogna mollare perché non abbiamo fatto nulla. Abbiamo fatto un bel passo avanti, ma ancora non decisivo. Ci sono otto partite e le dobbiamo giocare tutte col coltello tra i denti come se fossero quelle decisive. Mercoledì sarà una partita molto difficile, loro stanno bene, hanno qualità avanti, corrono nel modo giusto, sono cattivi, determinati. dovremo fare una partita super per portare via qualche punto perché stanno in forma e la squadra secondo me sta meglio di tutto il campionato, quindi sarà difficilissimo.